Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi filmo con il telefono, almeno questo video. Il prossimo video dovrei riuscire a filmarlo con la fotocamera, semplicemente la mia fotocamera è un po' kaput. Quindi, scusatemi, con il telefono comunque bene o male vedo che la qualità non è malissimo, forse il suono non è granché, però, ya, in questo momento non ho i soldi per comprare una nuova fotocamera, quindi dovrò arrangiarmi con quello che ho. E, anyway, questo video sarà molto un video che potete ascoltarmi a mo' di podcast, non dovete per forza guardarmi, non faccio niente di spettacolare, non farò le ruote, non farò acrobazia, ma oggi faccio un video dove parlo un po' del mio dottorato e di come funziona il dottorato qui in Canada, perché mi è stato chiesto tantissimo su Instagram. Quindi, prima di cominciare, ciao, io sono Doina, se siete nuovi qua, benvenuti. Se invece mi seguite, dai, dall'epoca dei dinosauri, in cui parlavo ancora del Canada e poi sono passata alla sostenibilità, eccetera, grazie mille di essere ancora qua. E, come dico sempre, io sono attiva su Instagram molto di più. Trovate il link qua sotto in descrizione. E in descrizione trovate anche il link al mio shop Etsy, perché ho aperto un shop Etsy dove vendo cose vintage. Ce sto provando, è un piccolo esperimento, quindi se per caso vi possono interessare delle cose, andate a vedere. E sempre qui sotto in descrizione trovate il mio link affiliato con la Wild, che è un deodorante che io utilizzo da ormai 4 anni, è un deodorante sostenibile, cold free, vegano, che io adoro tantissimo. C'è un condice sconto per voi e io ci guadagno una piccola percentuale, quindi se vi va anche di supportare il mio canale, eccetera, potete farlo così. Detto ciò, iniziamo con questo video dove parleremo un po' del dottorato. Prima di tutto, io sono in letteratura comparata e sto facendo appunto il dottorato in questo. Sto facendo, sto studiando più che altro la letteratura canadese, ma non solo. Non è concentrato solo su quello, alla fine la tua tesi la puoi fare su quello che vuoi, però ovviamente sarebbe meglio che centrasse un po' con la letteratura comparata. Io in questo momento sto finendo i corsi, sto facendo i corsi fino a fine aprile. Cioè a fine aprile finisco gli esami con tutti i miei corsi del dottorato e poi inizia la parte più rognosa del dottorato, che sono quella degli esami in inglese, in francese si chiamano examen de syntax, che non saprei neanche come non urli, ma vedo un attimo dopo se esiste un termine in italiano, ma sono degli esami che tu devi fare, devi passare prima di cominciare la ricerca, senza quello non puoi andare avanti. E sono degli esami molto importanti perché vogliono insomma vedere la tua conoscenza in tutto ciò che hai fatto finora e in generale il mondo accademico. E me lo sto facendo sotto, lo ammetto, me lo sto facendo molto sotto, però adesso vi spiego un po' in cosa consisteranno questi esami, cosa si farà, cosa non si farà. Prima di tutto dovete capire che io ci ho messo tanto per entrare al dottorato, se non avete mai ascoltato la mia storia, potete trovarlo comunque nei vecchi video, ma proprio gli ultimi video che ho fatto su YouTube a distanza di tantini mesi, vedete un po' dove parlo del dottorato, come sono entrata, tutta questa storia, ma insomma ci ho messo un po' prima di andare al dottorato, ci sono tre anni, sono stati tre anni molto travagliati e dolorosi, perché sì, è difficile quando sei tipo rifiutata da tutte le parti, non è facile accettarlo, però se non ce l'ho fatta alla fine, ce l'ho fatta, siamo entrati, abbiamo iniziato a settembre, ho iniziato a settembre il dottorato e ho finito il mio primo trimestre in ginocchio letteralmente, sia per il dottorato di per sé che è molto molto impegnativo, sia per altri problemi diciamo personali che non starò qui ad annoiarvi con, a riguardo, magari ne parlerò più avanti. E adesso invece, se avete visto il video precedente, sto facendo due università nello stesso tempo e non voglio ripetere quello che dicono in quel video, se volete andare a capire il perché, andate a vedere giusto il video prima di questo. Detto ciò, io giustamente prima di entrare al dottorato qui in Canada, avevo comunque provato ad applicare anche in altri paesi, ho mandato application in Irlanda, ho mandato più che altro domande e altro in altri paesi europei, ma non ho mai avuto veramente delle risposte esaustive, o comunque i loro siti facciano veramente caccare. E ho anche mandato una domanda in Corea. In realtà in Corea io sarei stata anche accettata, cioè ce l'avrei fatta ad essere accettata, se non fosse per il fatto che ho deciso all'ultimo di ritirarmi, diciamo, per il semplice fatto che avevo mandato tutta la mia domanda, loro mi hanno detto però ci servono dei documenti in più, e ci devono essere tipo legalizzati, tradotti dall'ambasciata coreana, una cosa del genere è che ho già mandato i miei documenti che sono stati tradotti e legalizzati da un traduttore in Canada, cioè più di così, che cazzo volete che vi faccia? E siccome era un periodo un po' così, ho detto vabbè lasciamo stare, non importa, va bene così, e vi dico da una parte sono stata un po' triste, perché dopo ho provato di nuovo ad applicare in Corea, ma non nella stessa università, tipo alla Seoul National, che è tipo l'università più fica della Corea, ma cazzo vuoi andare a fare? Ovviamente mi hanno rifiutata, perché quella è molto più competitiva e tutto, però va bene così, perché onestamente non credo che sarei andata in Corea, non me lo sarei potuto permettere, a meno che non ci fosse stata una borsa di studio potente di mezzo, non me lo sarei potuto permettere, poi diciamo con la situazione che è successa dopo l'autunno scorso, nella mia vita, meglio che io sia rimasta in Canada. Quindi in tutto ciò io ho consultato i siti di milioni di università e come funziona, per esempio, qui in Canada. Ovviamente se voi siete in Italia e funziona in modo diverso, so benissimo che in Italia magari funziona in maniera un po' diversa, però qua per i dottorati più o meno funziona nello stesso modo, soprattutto per l'ambito umanistico. Prima di tutto c'è dei corsi obbligatori, nel senso c'è un corso, nel mio dipartimento c'è un corso obbligatorio che ho già fatto e gli altri te li puoi scegliere tu. Devi fare questi corsi, ovviamente devi passarli, cercare di avere una buona media e tutto, non devi mantenere una certa media, ma insomma sei al dottorato, quindi sarebbe meglio mantenere una certa media, per adesso sta andando tutto bene, sto avendo una media pazzesca, quindi ok. Dopo che hai finito questi corsi, io quest'estate farò quello che si chiama il corso tutorial class, non so se si dica tutorial class, ma è come se fosse del tutoraggio, chiamiamolo così, ovvero che io con il mio relatore, o il relatore, che è una persona deliziosa oltretutto, per chi sapesse il mio precedente, ma nel video precedente potete vedere tutti i miei traumi, credo che andrà tutto bene, con il mio relatore dobbiamo iniziare a mettere insieme un programma di cose da leggere, tutti, che siano libri, che siano robe teoriche, eccetera, che mi portino insomma diciamo alla mia tesi, più vicino alla mia tesi. Allora, dovete capire che io sono entrata all'università con una proposta di tesi, perché giustamente per entrare all'università, soprattutto al dottorato, tu devi avere già una proposta di tesi in mente, perché loro devono capire su cosa tu vorrai lavorare, per capire sia se c'è un insegnante che ti può seguire, sia per capire un po' se la tua ricerca ha un senso, lì può interessare o meno. E la mia ricerca è stata effettivamente su Tolkien, cioè, nel senso, io volevo fare una tesi sull'ambientalismo, quindi volevo fare una cosa sull'ambiente e concentrarmi su Tolkien, però allo stesso tempo volevo metterci in mezzo altri autori, non per forza solo lui da solo, semplicemente magari lui sarebbe stato il main topic e poi ci avrei messo in mezzo gli altri, però quando sono andata a incontrare il mio relatore, lui mi ha detto, guarda, se vuoi fare la tesi su Tolkien, you go for it, io sarò lì a supportarti, però ovviamente essendo in un programma di letteratura comparata, sarebbe meglio comparare. Quindi mi ha detto, con Tolkien purtroppo le cose che tu vuoi mettere in mezzo, perché per esempio in questo momento sto studiando la letteratura indigena in Canada ed è super interessante, poi dal punto di vista dell'ambiente, secondo me, bisù, però mi ha detto, tu non puoi mettere in mezzo letteratura indigena e Tolkien, cioè sono periodi diversi, sono cose che non combaciano bene insieme, quindi sarebbe meglio o concentrarti solo sulla letteratura indigena, o concentrarti solo sulla letteratura fantascientifica, quindi fantasy eccetera, e poi insomma metterci in mezzo. Mi ha detto, tu Tolkien lo puoi mettere in mezzo assolutamente senza problemi, ma non potrà essere il tuo main topic. Diciamo che un po' ci sono rimasta male, perché sapevo di voler lavorare tanto su Tolkien, ma lui mi ha assicurato dicendo, guarda comunque che tu Tolkien puoi assolutamente metterlo in mezzo, quando farai l'insegnante puoi assolutamente metterlo nel tuo programma, nessuno ti impedisce di fare ciò, però diciamo che la tua tesi di dottorato è un po' il tuo curriculum quando esci fuori dall'accademia ed è importante avere una tesi che possa interessare, che possa fare gola, diciamo. Quindi, e concentrati anche solo su un autore, non è proprio una grande idea. E io gli ho detto, guarda, hai ragione, c'è mio profilo è tutto anche io da sola in generale su questa cosa, e ho detto comunque per me la cosa importante era parlare dell'ambiente, quindi parlare, fare comunque una tesi ambientalista per quanto possibile con la letteratura e soprattutto se la potevo fare sulla speculative fiction, quindi tutta la fantasy, fantascienza, tutte quelle cose lì in mezzo. E lui mi ha detto, questo si può fare senza problemi. Quindi diciamo, in questo tutoraggio, noi dobbiamo, io devo leggere un botto di roba, che è come se non leggessi già abbastanza, devo leggere un sacco di robe teoriche, perché alla fine sono io che metto in mezzo, cioè metto insieme queste cose, e poi a fine dell'estate devo fare un esame scritto su tutto ciò che ho fatto quest'estate. Quindi alla fine dell'estate io devo fare questo grande esame che fa parte giustamente di uno dei grandi esami pre-tesi. Dopo aver fatto questo, ovviamente a fine dell'estate lui mi ha anche detto, se tu a fine dell'estate dopo aver letto tutte queste cose e mi dici, guarda, mi hai fatto cagare tutto, voglio fare veramente la tesi su Tolkien, me lo dici e poi prepareremo una proposta di tesi solo su Tolkien e basta. Però effettivamente io ci ho riflettuto molto perché comunque la letteratura indigena mi sta piacendo tantissimo, è molto interessante soprattutto dal punto di vista ambientale e poi tutta la cosa fantasy a me fa molta gola perché comunque se io devo pensare a me stessa a insegnare nell'ambito accademico, mi piacerebbe tantissimo insegnare il fantasy, cioè mi piacerebbe insegnare comunque l'ecocriticismo, tutta la questione ambientale e il fantasy, cioè per me sarebbe questo il sogno. Quindi effettivamente lui mi ha dato dei consigli super preziosi, quindi faremo quest'estate avrò più, cercherò di ampliare la mia conoscenza al riguardo e poi appuntare il suo appunto fantasy, porca troia. Quindi detto ciò io appunto devo leggere un sacco di cose, devo capire un attimo dove voglio andare a parare, ma sicuramente comunque la questione dell'ambientalismo, dell'ecofeminismo è super interessante e sono sicura che nell'ambito accademico è una cosa su cui puoi lavorare tantissimo ed è anche molto richiesto ora come ora, perché adesso improvvisamente la gente interessa dell'ambiente. Quindi detto ciò, questo è uno dei primi cose che devo fare. Poi entro fine ottobre massimo, devo fare le altre due cose, ovvero devo preparare la mia proposta di tesi, quindi devo farla bene, benissimo, sicuramente la proposta di tesi è molto lunga per il dottorato, cioè devi fare una proposta di almeno dieci pagine o una cosa del genere dove metti in mezzo tutte le risorse, tutte le cose che hai consultato, tutte le cose che utilizzerai e devi fare anche una bibliografia annotata di tutto ciò e poi devi preparare un syllabus che il syllabus cosa sarebbe quando tu fai lezione, in Italia per me non c'era questa cosa ma nelle università estere il syllabus comunque è il programma dell'anno, cioè tu hai un programma che seguirai soprattutto nella letteratura, per esempio noi abbiamo non so, prima settimana facciamo questo libro e parliamo di questo, seconda settimana facciamo questo, questo, e quindi il syllabus è anche mettere in mezzo, mettere insieme delle risorse come testi primari come letteratura e testi secondari come critica letteraria e dare un senso a questo corso quindi io devo fare un syllabus per il mio campo che quello sarà la mia specializzazione ovvero la mia specializzazione sarà l'ecocriticismo quindi fare un syllabus per i studenti graduate quindi è come se dovessi fare un programma per gli studenti della magistrale del dottorato e fare un syllabus che abbia senso del cosa voglio ottenere con questo corso cosa voglio insegnare cosa voglio arrivare a raccontare insomma e poi devo fare un syllabus per un corso undergraduate quindi per la persona che sono all'aternale su una cosa che non so di che ne so tipo fare un syllabus sulla poesia che io non so un cazzo oppure un syllabus sulla letteratura che beh qua prima del 1700 una cosa che io per esempio magari so ma conosco fino a un certo punto e non sono molto preparata al riguardo e ovviamente i due syllabus sono anche molto diversi come come importanza o comunque come peso perché giustamente quello del tuo campo dovrebbe essere anche una cosa molto più studiata invece l'altro dovrebbe essere una cosa in cui tu hai fatto ricerca e pensi più o meno che questo potrebbe andare bene ovviamente queste sono cose che tu lavori col tuo relatore quando mandi queste cose queste l'esame finale estivo e queste cose che poi manderò verso ottobre c'è una giuria che dovrà correggere queste cose e poi ci sarà l'esame orale che è l'esame orale terribile perché è un esame che dura tantissimo tipo anche tre ore in cui loro ti chiedono cosa per cosa tipo perché hai usato questo testo perché l'hai scelto perché pensi che questo sia importante perché questo pensi che sia rilevante perché hai fatto questo parlami di questo testo cioè tu alla fine devi arrivare a questo esame in cui qualsiasi cosa tu hai scritto nel tuo esame estivo nel tuo syllabus nei tuoi due syllabus se nel tuo proposto di tesi devi conoscere alla lettera quelle cose perché all'esame orale questi ti bombarderanno di domande per essere sicuro che effettivamente tu sai quello che stai facendo quindi diciamo che io sono un po' in ansietta soprattutto per queste cose per l'esame orale non tanto per le cose scritte che dovrò comunque diciamo manage il mio tempo principalmente e fare le cose cercando di avere delle deadline da dare a me stessa però fatto quello e passato quello si parte con la tesi quindi tu una volta che hai fatto quello che credo che questo esame orale lo farò dopo Natale in primavera insomma si può partire con la tesi quindi una volta che si parte con la tesi lì ormai dipende molto da te e dal tuo relatore e ovviamente a fine della tesi c'è la difesa della tesi in cui tu dovrai difendere la tua tesi e anche quello è un esame molto 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 lungo quindi diciamo che finché non arrivi a fare quell'esame a vederti fuori da quell'esame non è finita quindi secondo me non sarà difficile la parte del devo leggere un sacco devo scrivere un sacco sarà veramente tutti questi esami orali che mi mettono un po' di ansia però io avendo già fatto la magistrale Sherbrooke io ho fatto questo processo anche alla magistrale però alla magistrale è molto meno intenso sono molto più clementi sono molto più gentili invece al dottorato ci vanno giù pesante quindi questo è un po' più o meno come funziona il dottorato almeno per quanto riguarda il mio ambito sicuramente anche per altri ambiti umanistici funzionano in modo diverso ci sono meno cose magari da fare però vi dico soprattutto questa cosa del costruire di syllabus secondo me è molto utile perché alla fine se io per esempio rimango a insegnare in Canada quella è la prima cosa che devi sapere fare cioè se tu devi insegnare un corso su ecocriticismo e fantasy cioè tu devi sapere cosa mettere in mezzo non puoi mettere cose a caso e tutto deve avere una logica alla fine in tutto ciò ovviamente devo anche cercare di partecipare ai call for papers devo cercare di avere delle pubblicazioni a fine del dottorato perché se facciamo il dottorato senza pubblicazione alla fine è come se averlo fatto inutilmente quindi c'è un po' questo stress sicuramente il dottorato rispetto alla magistrale è molto più stressante c'è molto più tempo da dedicare tempo che io molto non ho perché purtroppo lavoro e questa cosa mi impedisce di dare sempre il 100% però in ogni caso mi piace molto quello che faccio sono molto contenta e spero che vada tutto bene però ecco questo è più o meno come funziona e come funzionerà il mio percorso in questo prossimo anno e probabilmente prossimo anno in questo periodo più o meno dovrò fare questo esame orale da ansia e niente fatemi sapere se avete domande come funziona se fate un dottorato magari in altri paesi fatemi sapere come funziona che sono sempre curiosa e niente qualsiasi cosa scrivetemi qua sotto seguitemi su instagram su tiktok su instagram sono molto più attiva ogni tanto parlo del dottorato anche lì parlo magari ogni tanto di libri che sto leggendo eccetera quindi se vi interessa anche quello ci vediamo qua perché ci vediamo là perché siamo solo ai primi di marzo e ho già letto 33 libri dottorato in letteratura se legge libri cosa si aspettava di fare non so vabbè in tutto ciò niente grazie per aver se siete arrivati a fine di questo video lasciatemi un fiore così so che siete arrivati alla fine vi ringrazio tanto e noi ci vediamo alla prossima volta ciao